Attenta Lara, quel ponte è brulica di guardie. Benoni, consigli? Non sarà facile, ma forse puoi attraversarlo da sotto. Temevo che lo dicessi. Tranquilla, non ti perderò certo di vista. Lara, li tengo sottotiro. Ci siamo. Cosa starà succedendo, Luigi? Dici che hanno preso la straniera. Calma. Se non l'hanno catturata, lo faremo. Padre Matias ci darà impasto aglioni se non la troviamo. Se non la troviamo, noi la troveremo. La regina ci protegge. Non è che protegge la straniera. Ma che... Mi hai fatto prendere un colpo. Stai bene? Per un soffio. Non mi hai fatto prendere un colpo. Non è che continua insomma. Il cort account... Mi è 10enne. Non è che qui. Ferma! Non muoverti o ti vedranno! Aspetta! Adesso! Ferma! Aspetta! Ce l'ho! Vai! Ferma! Aspetta! Aspetta! Lara! Via libera! Grazie per l'aiuto. Adesso siamo pari. Lara, attenta! Ma che l'ammazzo! Arrunditi! No! Sono precipitati! Sarà morta? Sì, non vedo niente. Guardi! Attenzione! Ce ne sono troppi, Lara! Vattene in arrivo! Sì, non vedo niente. Sì! Sì, non vedo niente. Sì! 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 Per me. Oh! Ora, fratelli, restatemi ascolti. Nel mondo eravamo nullità, ma qui noi siamo i Solari, la prole della Regina del Sole. Lei ci ha condotti qui per un motivo. So che ambite alla libertà. So che volete evadere dall'isola. Ma per riuscirci dovremo liberare la nostra Regina. Lei è prigioniera come noi. Se la libereremo, saremo tutti liberi! Sì! Questa donna ha un vincolo di sangue con l'isola. Che sia la chiave? Sarà la prova del fuoco! A rivelarcelo! Imico! Tu che sei la prima e l'ultima, parlaci adesso! Ho ucciso una storia fra peggio! E ora, usciterò te! Questa è per Vladimir! Puttana! Basta così! Dimitri, Nicolai, ora portatela qui. Prontate! Oh! 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 creatura vivente lotta con tutte le sue forze per sopravvivere. Non credere che non ti capisca, ragazza. Solo che io lotto da molto più tempo di te. Dobbiamo prepararci, fratelli! La nostra regina ci sta per parlare! Parlaci, imico! Parlaci attraverso le fiamme! Mi dispiace, mi dispiace tanto! Guardami, guardami, ok? Lei, lei è la prescetta. Presto, fratelli! Saremo rigenerati! Sì! Portatela alla sala del trono. Hai finito di lottare, creatura. Non vedo il cadavere. Non può essere sopravvissuta. Prendiamola giù. Forza! Favvissuta! Sembra gas naturale, molto instabile. Ogni nuovo fratello riceve una mansione, un ruolo, tra i solari. Pura follia. Mattias è convinto che lo spirito di nemico ci trattenga qui. Possibile? No, non è possibile, ma è un'ipotesi talmente assurda da sembrare quasi una lucida follia. L'elicottero non ci porterà in salvo. Lo sai, Lara. Lo senti. Devo avvertire gli altri. Se saliamo a bordo, moriremo tutti. Aspettate! Cosa volete da più? Vi prego! Non agitarti troppo. E spera di morire presto. Oddio. No. È orribile. Volete! No! 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 Voi? 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 Chi lo sarà? Vieni. Vieni cuida il tuo. Vieni. Vieni, vieni. Vieni. Eccola, brodata! Tu, vai via! Vesta è casa mia! Acqua. Cibo. Qualsiasi cosa, per favore. Non lasciarmi. Ti prezzo, uccidimi. Non mi arrecchiamo". Vieni. 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 Grazie. Non so questo posto come faccia a stare in piedi. Vado a sistemare la vallola nella fossa. Se è rotta, la lasciamo al prossimo turno? Ehi, non metterci troppo. Voglio finire la partita. Sì, sì. E se i miscredenti capissero come infiammare quella roba? Cazzo, ok. Odio quel posto. Senti, vado io. Tu resta qui. Grazie, fratello. E sta attento, così muovi tutto. Calmati, tanto perdi lo stesso. Cos'era? Controllo! Alicia, tesoro. Ti scrivo a malincuore, ma forse non avrò altre occasioni per farlo. No. 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 Credo che sia di inizio settecento. I ventagli di seta neri venivano usati nei riti funebri dei più nobili dignitari. No. 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 No, no, no. No, no, no. Ok, ce l'ha ordinato lui. Ok, ce l'hanno detto dei tutori, non... Ok, ce l'ha ordinato lui. Ok, ce l'ha ordinato lui. Ok. 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 Decorata. Ok. 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 Che sei stato? Meglio andare a vederli. Ma che... Oh cazzo! Che storia incredibile, Lara! Sì! Come hai fatto ad arrivare qui? Mi hanno aiutata. Grim? Sì. Non ce l'ha fatta. Merda. Ho sempre pensato fossi immortale. Se n'è andato alla grande. Sono qui solo grazie a lui. Sentite, c'è un elicottero in arrivo. So che tengono Sam da qualche parte. Avete visto Whitman? Forse non è arrivato alle stanze degli ospiti. O forse è passato direttamente in prima classe. Lo troveremo. E anche Sam. Dopo che saremo usciti di qui. Mi inventerò qualcosa. Bene. Proviamo a muoverlo un po'. Forse, di nuovo. Ok. Pronti. Saltiamo! È inutile, Reils. E... Saltiamo! Merda. Lara, quest'isola è un cubo di matti. Parlavano di uno spirito del sole. La regina del sole. L'antica sovrana di Yamatari. Che? Puoi dire che questa è Yamatari? Sì. Così sembra. Beh, è già qualcosa. Siamo partiti per questo, no? Sì. Tenetevi parte! Non è come ce l'aspettavamo, eh? Funzione! Sì! Wow! Ha 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 ha! Va bene! Guarda là! Qui sta crollando tutto. Il pavimento è inizio a deformarsi. Non pensarci, Lara. Ti lascio un po' vedere. Continua così. Ok. E adesso? Dai, sei sulla strada giusta! Condolta! Li tengo io! Grazie, Gianna! Ci è mancato poco! Ma si è vette male. Aggraffatevi a qualcosa! Il pavimento è andato. Ragazzi, guardate giù! Il pavimento è crollato! Dobbiamo uscire da qui. Merda, siamo fattuti. Lara, una testa là fuori. La testa è fatta andare a andare. Non vedremo di più. Presto, Lara! Non so cosa vuoi fare, ma farlo in fretta. E' calare! Liberaci da qui! Guardate! Laggiù si vede una luce. Un evocale. Facendo un signale lagato, potremmo saltare fuori. Bene, speriamo che basti. Grazie. Wow, ci è mancato un soffio. Lara, di qua c'è una mia tossica. Ok, andate! Io penso a Sam e Whitman! Va bene. Mi raccomando, Lara. No, 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 no. Abbiamo. No, 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 no. Oh, no, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. E' sonata che mi raccomando. Si muero, ma qui sta crollando tutto. Ho organizzato un recinto dall'altra parte del monte. L'elicottero sarà qui a muovere. Sì, non sei mai, Whitman. Sì, non sei mai. Sì, non sei mai. Non sei mai. Aiuto! Aiuta! Eh! Noi, 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 noi. Noi, noi, no, ma. Mattias. Non si scappa. L'ho sentito in giapponese prima che l'aereo si schiantasse. Lo stesso rito della tomba di Iniko. Perché a Mattias interessa tanto? C'è gente intrappolata nella torre Overs. Andiamo! Cosa la farai? Eccola! Non è derivare la sua! Andiamo, forza! All' улиomo! Questa! Damiamolo a ciò! Ah!